Musica Bella a tutti ragazzi, qui è lì ed oggi siamo su Minecraft Island of Junara E io ho l'F3 perchè stavo provando i f... i f... gli FPS Ok, nello scorso episodio abbiamo preso un bel po' di oro Perchè abbiamo scoperto un dungeon, per così chiamarlo Con uno spawner di scheletri Il che non è male perchè riesco a farmi il cibo Ma sinceramente non me ne frega niente perchè di cibo ne ho abbastanza Oddio, non tanto quanto vorrei ma ne ho E abbiamo trovato anche un bel po' d'oro Quindi cosa farò io oggi? A parte lasciare questa roba qui perchè non mi serve e anche questo Ok, mi vado a fare l'ultimo blocco d'oro mancante Eccolo qui, il nostro bel blocco d'oro mancante Posiamo l'oro rimanente e anche il charcoal Ma non c'entra qui, lo metterò dentro una di queste chest Queste sono fornaci Ok, vabbè, basta dire Ok, dopo aver fatto questa scemenza senza alcun motivo Andiamo a piazzare il nostro bel blocco d'oro Ed ecco il lag che io ho provato a risolvere ragazzi Ci sono arrivato fino a un certo punto Ma il lag c'è sempre Soprattutto perchè questa qua è una mappa enorme E minecraft è un gioco fatto a cavolo Plazziamo il nostro bel blocco d'oro E così abbiamo finito Non ci resta che fare gli altri blocchi Cioè iron, diamond e emerald Che saranno abbastanza difficili Oh mio dio, cioè In alcuni momenti minecraft è rapidissimo In altri è uno schifo Ok, io mi stavo rivedendo l'ultimo Non l'ultimo episodio Ma quello prima ancora A parte l'isola degli enderman laggiù C'è un'isola qua vicino alla sfera Che è vera Cioè quella Che non posso dire di non aver visto Perchè È enorme Cioè Oh mio dio Il rischio della morte Cioè è enorme Quella cosa là Non posso dire Oh, non l'avevo vista Non l'avevo vista Perchè avevo il render bassissimo Grazie ad OBS Riesco ad aumentare anche il render Oh mio dio Che buco c'è qua sopra Ma chi è quel mona Che ha distrutto tutto Guardate Ok Qui mi sa che c'è un altro mega buco E infatti c'è un altro mega buco Ok Diventa sempre più difficile Raggiungere quel punto Ma chi Cavolo Ok Allora Qui C'è Qualcosa C'è qualcosa anche là Ma quell'isola è enorme Mi interessa Ma c'è uno scheletro C'è anche una cesta là sotto Per fortuna l'abbiamo vista subito È veramente enorme Io allora inizierei Forse non riusciamo a visitarla in questo episodio Ma inizierei Ad avvicinarmi a Questo Probabile spawner Aspettate che metto i suoni Perché altrimenti non so che Non mi sembra ci sia qualcosa di ostile Al suo interno Ma forse Mi sembra male perché È vuoto qua dentro No c'è una cesta E non è una cesta E non è una cesta Trappola Parti Food Bodging Bodging Death floor Anyone Che cavolo vuol dire Ok Father falling Father falling Unbreaking Mi gusta C'è del cibo Ci sono Delle uova E delle Enderpearl Ok Io queste scarpette Me le andrei a mettere A posto di quelle che ho Perché hanno Father falling Ma cosa ancora più importante È tutto questo Bel ferro Che c'è Che prendo Volentieri Vabbè Il gold Non ci interessa Perché ormai Abbiamo fatto Il blocco di gold Abbiamo finito I blocchi di gold Ok Preso anche questo Io direi di Andare Ma dov'è il mio ponte Ah È là sopra Bucchiamo anche questo E voilà Abbiamo anche il ponte Per tornare indietro E cerchiamo di andare A posare questa roba Sani e salvi Magari Preferibilmente Oh mio dio Cioè No Ci sono troppi Troppi buchi Dai dai Ci dobbiamo riuscire Dobbiamo portare a casa Tutto questo ben di dio Ci siamo Vai così E fu così che cadde Morì Malamente Cioè Tanto lag In questo momento Spero che il video Non venga Laggoso Perché altrimenti Io c'è da Mi Mi uccido Veramente Cioè Foreve per sempre Nel mondo Dei mondi Dei mendosi Io devo Tappare Assolutamente Questo buco Perché io Lì ci cadrò Prima o poi Ora non ci cadrò Più Allora Lapis Block Emerald Iron Diamond 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 Iron Lapis E basta I lapis Lapsuli Blobs Sono due Basta Va bene Ok ragazzi Io allora direi Di andare Rapidamente Verso la nuova isola Però prima Mi dovrò fare Allora Nello scorso episodio Avevo pure detto Sembra che non ci diano Degli animali Non è vero Gli animali ci sono Perché ho appena visto Dei maiali Oddio Zombie Scheletri Oddio ragazzi Di qua c'è la morte Mio dio No Sento zombie Di tutto Ok Eh Vieni Vieni qui Bellascia Vieni qua da me Oh Un villager Oddio Oh Si sono salvati Gli emerald Gli smeraldi Si sono salvati Oh cosa c'è laggiù Ora vado Subito a prenderla No la chest Maledetto Ragazzi Il lag Mi ha fregato Ok Ho delle enderpearl Quindi Tough Ok C'è un libro Andiamo subito Via di qui Subito Ok Mio dio Quel posto è la morte Oddio mio Pensiamo ad andare a casa a portare gli smeraldi Perché quel posto è veramente la morte Lì ci vuole la spada 4 La spada Non spada Spada 4 0 4 Allora Con 6 emerald E questi altri 3 arriviamo precisamente a 9 E ci facciamo subito Un blocco Ok E qui abbiamo una chest plate con protection 2 Blast protection 1 E unbreaking 3 E abbiamo un Returns di ario 2 Che posiamo Me lo leggerò dopo Ok Vediamo un po' Come Ok si Va cambiato Andiamo a posare il nostro Emerald block Emerald block Il primo Emerald block Della serie Che viene posato E Allora Iron Iron Emerald block Ecco qua Subito Al suo posto Boom Ebbene ragazzi Io direi che per questo video è tutto Nel prossimo episodio andremo a visitare il nuovissimo dungeon Andremo a vedere la morte in faccia Perché lì moriremo continuamente Quindi lascerò tutto Io vi ringrazio come sempre tantissimo per la visione Vi ricordo di lasciare un like Un commento Di condividere Se non vi siete ancora iscritti Iscrivetevi Noi ci rivediamo al prossimo video Ciao Ciao